benvenuti a questa nuova puntata della rassegna di curiosità e strafalcioni più o meno consolidati del linguaggio medico iniziamo subito col primo strafalcione la diaria in verità questo termine non è poi così diffuso in ambito sanitario ma è sufficientemente consolidato da meritare la nostra attenzione piuttosto spesso mi capita di sentire qualche collega che chiede un foglio di diaria per annotare le variazioni cliniche giornaliere del paziente ho provato a fare una ricerca su google questi risultati come possiamo vedere il termine diaria è presente molto frequentemente la cartella clinica la diaria un foglio di diaria la diaria la cartella clinica è la diaria clinica vediamo in questa circolare un foglio di diaria un foglio di diaria nella loro diaria anche in questo protocollo ufficiale la diaria sempre collegato alla cartella clinica ma se utilizzato anche dalle istituzioni il termine diaria sarà corretto per avere una risposta consultiamo il vocabolario treccani online ecco diaria dal latino razione quotidiana degli schiavi dei soldati eccetera indennità che il datore di lavoro corrisponde al prestatore d'opera a titolo di rimborso spese di viaggio o soggiorno fuori sede per ogni giorno che dura la trasferta o missione imposta introdotta nel 1707 dal governo austriaco nel milanese in sostituzione del mensuale quindi con il termine diaria si intende un qualcosa che ha a che fare con una certa quantità di denaro giornaliero come un rimborso spese un risarcimento o quanto è corrisposto per una determinata prestazione giornaliera quindi la diaria clinica è in effetti un vero e proprio strafalcione il termine corretto ovviamente è diario vediamo il significato di questo termine sul vocabolario treccani dal latino tardo registro giornaliero forma elementare di storia in cui gli avvenimenti sono registrati giorno per giorno nell'uso comune quaderno simile che nel quale si annotano e si commentano giorno per giorno gli avvenimenti che si ritengono più importanti diario di viaggio diario di una un diario eccetera registro giornaliero diario scolastico diario di classe diario degli esami eccetera quindi quando noi dobbiamo descrivere le variazioni delle condizioni cliniche del nostro paziente sulla cartella clinica scriveremo sul diario e non sulla diaria passiamo ora ad un altro strafaccione molto consolidato ma che interessa solo un pubblico medico diciamo di nicchia radiologi ortopedici e fisiate la listesi cosa è la listesi si utilizza questo termine in riferimento ad una patologia che per esteso è definita spondilo listesi cos'è la spondilo listesi ricordiamo al nostro vocabolario lo scivolamento in avanti di un corpo vertebrale e della porzione soprastante del racchide che per lo più si osserva in vertebre sede di spondilo listesi non entro nei dettagli dei termini perché presumo che chi sta seguendo questo video sappia di cosa stiamo parlando determina il formarsi di curve di compenso nei segmenti prossimali della colonna ed è talora causa di dolori per la compressione delle radici dei nervi spinali quindi spondilo listesi e lo scivolamento di una vertebra per comprendere lo strafalcione dobbiamo analizzare l'etimologia della parola la parola spondilo listesi deriva dalla fusione di due termini greci la prima parola è questa con la pronuncia erasmiana o etacista quella che chi ha studiato greco al liceo ha imparato si legge sfondiulosso ma è utilizzabile anche il termine spondiulosso con la pronuncia roichliniana o etacista o anche secondo la pronuncia del greco moderno il termine si legge sfondiulosso o spondiulosso il termine spondiulosso significa vertebra vediamo il secondo termine il secondo termine è questo con la pronuncia etacista si legge olistesis con la pronuncia itacista si legge olistesis significa scivolata caduta quindi spondilos vertebra olistesis scivolata caduta ecco praticamente che spondilos più olistesis viene spondilo listesi questo termine il termine olistesis è in greco antico il termine analogo nel greco moderno è quest'altro è scritto con una modalità un po diversa finisce non con sis ma con un'altra età in greco moderno questo termine si legge olistisi perché la età nel greco moderno si legge come la i ecco perché si dice pronuncia itacista etacista etacista quando la età si legge come una et e itacista quando la età si legge come una i il termine abbiamo detto vuol dire scivolamento chi ha studiato al liceo classico noterà un particolare che l'accento è sulla terz'ultima sillaba nonostante la parola termini con la con la età che una vocale lunga secondo le regole dell'accento greco quando l'ultimo vocale lunga l'accento dovrebbe cadere sulla penultima lettera quindi olistesi o olistisi in questo caso sarebbe olistisi perché ovviamente che con moderno deve essere letto con la pronuncia moderna quindi olistisi e invece no perché nel greco moderno la regola dell'accento non è rigorosa come nel greco antico quindi anche se questa parola termina con una vocale lunga la pronuncia corretta sarà olistisi cioè la parola resta pro parossitona anche se l'ultimo vocale è lunga quindi sia che noi utilizziamo il greco antico olistisis sia che utilizziamo il greco moderno olistisi l'accento cade sempre sulla terz'ultima sillaba quindi la parola spondi olistesi deriva dalla fusione di questi due termini dove notiamo che la o finale di spondiloso si fonde con la o iniziale di olistisis per dare il termine spunto spondilo olistesi nel linguaggio gergale che utilizzano gli specialisti del settore invece si utilizza spesso solo la seconda parte di questa parola composta e si utilizza la parola listesano vediamo su una ricerca su google la listesi la listesi la listesi la listesi la listesi addirittura qua si specifica listesi significa scivolare in avanti in realtà listesi vuol dire appunto scivolone scivolata ma non listesi ma olistesi quindi vediamo il termine listesi estremamente diffuso però c'è una considerazione da fare la parola listesi non esiste provate a cercarla su vocabolario vedrete che non troverete la parola listesi perché in effetti la parola non solo non è riportata in vocabolario ma non ha neanche senso perché nel momento in cui noi utilizziamo soltanto una delle due parole composte non c'è motivo di elidere la prima o della seconda parola quindi quando noi vogliamo correttamente pronunciare il termine o sintetico per indicare la sponda o gli stesi dovremmo dire olistesi e non gli stessi veniamo adesso ad un'altra parola questo non è uno strafalcione è soltanto una curiosità si dice perone o perone in verità sono accettate entrambe le pronunce ma nella stragrande maggioranza dei casi negli ospedali e nelle università il termine che io ho sempre sentito più frequentemente è perone sembra più colto di perone vediamo però come stanno realmente le cose e consultiamo il vocabolario greco perché il termine deriva dal greco ecco qui cosa ci dice il vocabolario greco antico il termine perone qui l'accento è sulla o eccolo l'accento perone è un sostantivo femminile che significa sostanzialmente spillone ma sta anche a indicare il più sottile dei due ossi della gamba non dico il nome lo diremo dopo se leggiamo con la pronuncia di tacista o con la pronuncia del greco moderno si leggerà perone perché la etra come dicevamo si legge come la i quindi l'accento è sulla seconda ultima sillaba e questo è normale perché nel greco antico abbiamo detto quando la parola finisce con la vocale lunga l'accento va sulla seconda ultima lettera quindi è un termine parossitono vediamo il vocabolario italiano come vedete l'accento è sulla seconda ultima sillaba perone quindi perone è il termine corretto però noi vediamo che c'è scritto alla latina perone poi c'è l'etimologia da perone in greco che vuol dire appunto spilla o in anatomia osso della gamba lo stesso che fibula quindi in pratica anche se il termine corretto è perone si potrebbe anche dire perone pronunciando alla latina perone alla greca perone alla latina tutto chiaro dunque beh non proprio riflettiamo un attimo il termine latino per indicare la spilla lo spillone o anche l'osso sottile della gamba e fibula in latino il termine perone non esiste i romani utilizzavano un termine completamente diverso che appunto fibula e allora la domanda è perché bisognerebbe pronunciare alla latina un termine che in latino non esiste non è mai esistito ora nell'uso comune il termine perone ormai è estremamente diffuso per cui uno può pronunciare questa parola un po come vuole ma se siete dei puristi della lingua dovrete dire perone alla greca e non perone per oggi ho finito saluti e arrivederci alla prossima grazie a tutti